Presidente Marsiglio, importanti notizie arrivano dopo l'ultimo incontro con il commissario per la ricostruzione Guido Castelli. Questa mattina prima di venire ad Ancarano sono stato a Roma prima al Senato della Repubblica e poi dal commissario Castelli per seguire il segno di legge di conversione del decreto sulla ricostruzione che porterà importanti novità per dare una svolta e una ulteriore accelerazione dal processo di ricostruzione e poi con Castelli abbiamo parlato delle opere pubbliche da finanziare, mi ha garantito che entro la settimana il comitato istituzionale della Regione Marche si riunirà e con l'accordo e la condivisione tra la Regione Marche e la Regione Abruzzo verranno stanziati 8 milioni per rifare i due ponti che oggi bloccano la viabilità sul Tronto e che qui ad Ancarano in Val Vibrata erano attesi da molti anni la risoluzione di questo problema abbiamo individuato con il senatore Castelli, con il commissario Castelli che ringrazio per la sua operatività oltre che il presidente Acquaroli per la collaborazione istituzionale e territoriale fornita devo dire che la collaborazione tra Abruzzo e Marche cresce di giorno in giorno e porta benefici al territorio soprattutto in queste aree di confine Grazie Grazie Grazie